Noi dell'US Agropoli, tutta la società, volevamo fare gli auguri a tutta la città di ansia di Agropoli, a tutti i tifosi, all'amministrazione comunale che ci è stata vicino, ringraziando il sindaco, al nostro grande persona che è pure lo stesso Franco Alfieri che sta sempre vicino con l'anima di questa squadra quando sono venuta la Presidente otto anni fa, nove anni fa circa, ci sono sempre i primi sostenitori, vogliamo fare veramente gli auguri di buon Natale, felice anno nuovo, che sia per Agropoli un anno pieno di felicità come può essere anche per tutti coloro che non ci sono vicini, con l'auspicio naturalmente che possono starci più vicini, darci più calore, sostenere questa squadra, cercare naturalmente di fare una bella cavalcata con l'auspicio di poter militare per il prossimo anno, eventualmente, sorprendendo anche i pretendenti al campionato, di poter militare in un'altra categoria. Questo è quello che mi auguro e consentendomi ancora un altro saluto da parte mia, a questo punto proprio anche personale, un auguri particolare a tutti coloro che sono, purtroppo, che sono forzatamente ricoverati presso la struttura ospedaliere, voglio fare un corato auguri da parte della società e da parte mia, a tutti coloro veramente che non possono convivere con gli altri in famiglia nelle proprie case. Auguri, auguri alla città di Agropoli. Grazie su tutti quelli che ci state vicino e vi prego, un'unica preghiera, che l'anno nuovo possiate essere più numerosi vicino a noi. Grazie. E grazie a Cilento Ciano. Grazie Presidente.